Ehm, ciao! Oggi come vedete sono a fianco dei piedi, però cioè non è che è grande lui, sono piccolo io semplicemente perché oggi andremo a giocare in una sfida di Minecraft dove andremo a costruire una casa all'interno di quell'albero. Ciao loco, sei un po' grosso, mi stai un pochettino spaventando sinceramente. Io sono Groot. Va bene, comunque, nulla, abbiamo 12 minuti per costruire la nostra casa all'interno di questo bellissimo albero, però noi non iniziamo fino a quando voi non lasciate un mi piace e non vi iscrivete e questa volta il mi piace va lasciato con cosa loco? Con il ginocchio sinistro. Con il ginocchio sinistro, chi lo fa col destro ha sbagliato. Niente, iniziamo subito, abbiamo 12 minuti, io entro subito nella mia paura. Loco, tu dovresti diventare piccolo, da grande non ci entri. Eh, ok, voglio entrare, non posso. Vabbè, io intanto entro in inizio, tu intanto... Va bene, vi vediamo dopo. Ciao, eccoci dentro un alberello, benissimo, ora non ci resta altro che dire, Alexa, imposto un timer di 12 minuti e mezzo. 12 minuti e 30 secondi. A partire da ora, ok, ho perso anche un timerino, dimmi, cosa non hai capito? L'albero è la casa o dobbiamo fare una casa dentro l'albero? Eh, loco, ti trovi dentro un albero, non so, dimmi tu cosa vorresti fare dentro un albero, cioè, voglio fare una casa... No, ma dobbiamo costruire proprio la casa o decorare l'albero? Dovresti decorare l'interno, perché l'esterno è l'albero, ok? Quindi tu dovresti arredare, fare delle stanze carine... Faccio una casa nell'albero. Allora, una cosa molto carina, sai cosa potrebbe essere? Potrebbe essere il costruire un albero, dentro un albero, e fare una casa sopra l'albero, però non so se hai spazio per fare tutta sta roba. Io faccio questo volando... Tu non hai capito niente, dici? Io faccio due anni, perché uno non mi basta. Non voglio fare il muro con i blocchi, ma voglio fare il muro col muro, ok? Non è complicato da capire, penso tu ci possa arrivare. Praticamente... No, sono troppo stupido. Vabbè, ogni tanto può capitare nella vita. Vediamo se così mi può piacere il muro. Non mi dis... Però si vedono... Forse è meglio fare il muro normalmente. Perché fai il muro di muri? Come hai fatto a spiarmi? Sei perché sei uscito dall'albero? Certo, sei uscito, ho aperto la porta e sono uscito dall'albero. Non puoi spiare ciò che accade al di fuori della stanza. Allora, è passato troppo tempo e non ho fatto niente, non ho fatto assolutamente niente. Mi stai distraendo? Io ho finito, ho già finito, Nico. Sì, certo. Guarda che non vale piazzare solo un bocchettino, anche perché i fan poi voteranno quale... ...la casa che più gli è piaciuta, se a due hai perso... E chi vince cosa vince? Questo non posso dirtelo, scoprire soltanto vivendo. Allora, che cosa possiamo fare di pareti? Le possiamo fare di snow. Io faccio le pareti di albero? No, ma di albero? No, io le faccio di snow. Ecco. Non questa snow, snow block, forse ho sbagliato. Non ho fatto, lo dico. No, niente. Allora, questa parete è bellissima. Facciamo una porta di qua, teniamo sempre... No, però la snow non ci dice, forse è meglio smettere di trollare. Io dirò la verità, non ho ancora piazzato un blocco. Ma dai, Nico. Però è tutto recuperabile ancora. Questo blocco qua mi piace molto. In realtà no, secondo me hai già perso. Ha vinto l'occo, c'ha tutti. Non funziona così. Non funziona così. Però il tempo sta scorrendo purtroppo. E ho fatto uno screen. Allora, devo settare il muro di sto coso. Ed è una schifezza farlo ogni volta perché ci metti 20 minuti. Sprouse 11. Ok, ce l'abbiamo fatta. Facciamo qui una porta di spira. Ma quindi il muro è fatto di muri o noi siamo fatti di albero? Che senso, scusami. Non ho capito neanche io. Allora, il muro è di legna, quindi se vuoi sì è fatto di albero. Però... Il muro è fatto di muri? No, il muro è fatto... Mi stai confondendo. Se il muro è fatto di legna e il legno è fatto di muri, allora il muro è fatto di muro. Ha un senso quello che stai dicendo? Sono stupido io o non ha un senso? No, tu sei stupido. Questa domanda non so perché, ma la risposta la sapevo già. Allora, iniziamo dalla cucinetta. La cucinetta la facciamo, direi, con questo bellissimo tema perché è comunque molto legnoso. Allora, facciamo una bella cosina. Amplener, molto grande perché qua ci va la forma. Amplener? Ma questi termini da dove li tiri fuori, Nico? Dall'interrogazione di arte che ho fatto settimana scorsa. Ok, mi piace questa cucina perché non è altezzosa. È una cosa che possono permettersi tutti. Legna, comunque cobblestone. È una cosa che è la portata di tutti. Ma questa è casa da nuova finestra, eh? No, scusa, l'aria non ci serve a noi. Siamo degli abitanti degli alberi. Siamo degli scogliattoli. Siamo scogliattoli. Oh, che... Cosa vuol dire questa cosa? Oh, che... Non lo so. Prende in giro perché... Mi stai prendendo in giro? Stai prendendo in giro la mia persona? Non lo farei mai. Non lo farei mai, ovviamente. L'hai fatto. Allora, questo non è vero. Chire, ok. Ho visto... Niente, non... Voglio fare anche un ospedale in casa. Qui ci facciamo un ospedale. Ma perché? Perché no, scusami. Scusami, perché no? Perché no? Che senso ha? Perché sì? No, perché... L'ospedale degli scogliattoli? Sì! Quando tipo uno scogliattolo cade da un albero, viene qui e si... Muove. No. Non muore. A volte può darsi, poverino anche lui. Mi distaccia però... Mi auguro che non muoia, infatti non morirà e verrà qui dentro a mangiarsi una bellissima torta. Ecco qua. Allora, poi mettiamo anche una luce, perché gli scogliattoli piace fare anche festa la notte tunzu tunz. E quindi mettiamo delle luci. Queste sono carine. Queste luci sono... Ma tu sei mai stato a un party, a una festa, visto a scogliattolo? No, mi manca. Una festa a tema visto a scogliattolo? No, mi manca. Tu invece sì, immagino. Sì. Mi spiace per te. Allora... Stai tranquillo. No. Tutto a posto. Tranquillo, non ti hanno obbligato ovviamente ad andarci. No, no, ci sono... Volevo andarci io. Ah, l'hai organizzata tu proprio? Esatto. Va bene. Fattemmo a scogliattolo. Allora, qui la cucina l'abbiamo fatta e un sacco carina. Poi andiamo qui e facciamo la stanza dell'ospedale, perché è molto importante avere un ospedale per gli scogliattoli. Facciamo qui la barella. Ok, così qua c'è lo scogliattolo ricovero. Ma ci si fa una porta? Non è che ci sia molto da fare in una porta, in realtà. Bed. Bed, ok, lo mettiamo qua e ne facciamo due, perché gli scogliattoli massimi sono due, altrimenti gli altri poi... Ma scusa, se è una famiglia di scogliattoli che vuole trasferirsi in questa nuova casa che tu stai costruendo, come fanno a starci? Ma no, perché... Beh sì, non si trasferiscono a dormire dentro l'ospedale. L'ospedale è soltanto per l'emergenza, ovviamente. Cioè, scusa, tu non hai in mente il concept dell'ospedale, capito? Ma se stanno male i più scogliattoli, insieme? Eh no, massimo due. Più di due non possono. È cattivissimo, Nico, dai! Ma non è colpa mia, è che non c'è molto spazio. Alexa, quanto manca il timer? Al tuo timer da 12 minuti e 30 secondi rimangono 5 minuti e 50 secondi. Eccala, eccala. È troppo poco, è troppo poco. Non manco fatto una decorazione. Eh, non ci siamo. Io invece sto facendo il secondo piano, perché... Allora, al secondo piano ci dovremmo fare un bagno, perché anche gli scogliattoli fanno la... la cacca e la pipì, cioè, io... Davvero? Sono rimasto un po' così quando l'ho scoperto, però... Fanno sia cacca che pipì. È incredibile. Ma che poi non è che ne fanno solo una, fanno sia cacca che pipì. Cioè, ti rendi tutto? Insieme? Dipende, dipende dalla giornata. Ogni tanto sì, ogni tanto invece... A volte è quando... Quando gli va di farlo lo fanno... Ogni tanto dividono. Ogni tanto fanno un po' e un po', allora... Va bene. No, è per... È geniale perché risparmiano tempo. Va bene, cambiamo discorso. Allora, qui c'è un bagno, un bagno incredibile. Gli scogliattoli adorano gli acuzzi. Allora, questo è proprio il loro coso preferito. Adorano passare il tempo qui dentro, quindi gliene mettiamo una e insieme gliene mettiamo anche una doccia, così. Poi, gli scogliattoli vanno in bagno in quattro. Ma si parla da solo questo? Sì. Gli scogliattoli vanno in bagno in quattro? Ma scusa, in ospitali in due e in bagno ci vanno in quattro? Eh, sono particolari gli scogliattoli, che credi? Non lo so, boh, devi profondare. Perché giudichi gli scogliattoli? Cosa ti hanno fatto? Ah, è per capire un po' come... Devo capire io come si comportano queste piccole creature. E vanno in bagno in quattro. E quindi? Cosa vuol dire? Ma va bene, tranquillo. Non possono? Non possono? Stai tranquillo però. No, perché se non possono lo dici. Lo riferisco a mamma scogliattoli e non li faccio più andare in bagno. Cioè, basta, non fanno più pipì. Ah, almeno un ospedale per più persone, no? L'ospedale è per le emergenze. Il bagno è per quando ti scappa tutto. Cioè, ti scappa qualcosa. Anche quello è per le emergenze un pochettino, no? Sono emergenze di tipo diverso. Per favore non intrami in argomento. No, senti. Mi stai un pochettino sinceramente stancando. Secondo me dovresti un pochettino pensare a ciò che stai dicendo. Così, qua ci facciamo un piccolo divanetto. Una zona relax, relax, relax. Qui ci facciamo un divanetto detto. Quindi, dove è il living room? Dove è il living room? Questo, questa poltrona. Io posso dirti una cosa? No. Mi piace tantissimo questa c... Ti ho detto che una mano la potevi dire però. E tu l'hai detta lo stesso. Cioè, io faccio quello che voglio, non devo dipendere da te? Non mi piace questa tua opinione. Allora, come cavolo... Ok, questo qua. Cosa sto facendo? È giusto. Boh, le gambe hanno qualche problemino, credo. Qui manca una... Vabbè, allora... Non che su da casa sia fatto meglio. La smetti di spiarmi, per favore? Guarda che... Adesso voglio vedere la tua cosa hai combinato. No, tranquillo. Sai cosa ti dico? Gli scogliattoli hanno due tv. Ne mettono una da una parte di qua. Beh, sai, interessante. Qui non ci sta però. Così. Ok, hanno due tv. E quindi cosa fai? Hanno due tv. A dire, tu? Oh, interessante. Sì, perché a volte uno vuole vedere una cosa e uno l'altra, così possono farlo, altrimenti non potrebbero. Qui ci mettiamo una bellissima libreria e poi ci manca soltanto la camera da letto, anche se la libreria non l'ho messa e non la trovo neanche. Eccola qua. Alexa? Alexa? Quanto manca il timer? Al tuo timer da 12 minuti e 30 secondi rimangono due minuti e 10 secondi. Ok, ok. Manca pochissimo, dico, è finita. È decisamente poco. E se proprio lo vuoi... Io ho fatto una cosa sbagliata. Ho fatto una cosa sbagliatissima. Tutto? No, tutto no. Però ho fatto la camera da letto che è un botto grande e sinceramente non so come arredarla. Cioè, ci metto un po' di mobili a caso, però... È molto, molto grande. Ah, Nico, sono altamente deluso da questa tua affermazione. No, no, tranquillo. Allora, qui facciamo una cabina armadio, ok? Quindi facciamo una cosa... Questo lo togliamo. Facciamo un angolo cabina armadio. Ok, così. Però molti armadi hanno, perché gli scogliattoli piace vestirsi in modo... Sì, ma gli scogliattoli... Infatti, ti dicevo prima, vanno alle feste di scogliattoli vestiti da scogliattoli. Sì, ma poi non lo sai, ma in base alle occasioni cambiano vestiti. Esatto, è incredibile sta cosa. Ok. Mamma mia, voglio un armadio così nella mia casa del futuro, ma quant'è bella. Cioè, scusate, vengo così con tante scarpe, ma basta. Metto un po' di polaroid, perché sono degli scogliattoli comunque che viaggiano un sacco. Non so se lo sapevi. Eccoci qua. Poi, devo arricchire con dei carpet. Carpet. Uh, ci sono quelli belli. Metto questo qua giallo. Questo qua giallo così. Ok. Ci sta, ci sta, ci sta. Magari facciamo così che viene un pochino più carino. Io ho quasi finito tutto, ormai è... Oh, ma io ho vinto, ho vinto. Ma chi hai vinto? Ma smittila. Guarda che casa mia scherzi e ridi, ma in realtà è bellissima, eh. Allora, così, un tappetino qui, ne mettiamo uno in bagno, carpet così, azzurrino. Che carino questo. È vero, geniale. Metto anche io carpet, carpet. Non mi puoi... Dai. Io non ti ho boccato con lo scogliattolo. Eh, invece sì. No, non l'ho fatto, perché non ho tempo. Invece, invece, non l'ho fatto. Eh, che bugia. Carpet. All'ingredo... Oh, abbiamo poco tempo. Abbiamo poco tempo. Ci sia più tempo. Basta. Ecco. Alexa. È finito il tempo. Shhh. Mutati, per favore. Vabbè, mi pulisco l'inventario e vengo a vedere la tua casa, va bene? Dai, arrivo. Dai, arrivo, arrivo. Allora, 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 mi mostri la tua... Ma, loco, dove? Sei pronto, Nico? Dove? Dammi ne sei. Ma quanto sei piccolino? Aspetta, Femmo. Ciao, Nico. Mi stai confondendo. Allora, andiamo verso casa. Sei pronto a vedere la meraviglia più assoluta? Credo tu sia un po' pagato, però... Va bene, andiamo a vedere casa tua. Dai, entriamo in sto... Non ci posso... Allora, mostrami un pochettino. Dove siamo? Guarda, qui, Nico. Ma che hai fatto? Ma che è un giardino bionico? Buongiorno. È una casa dentro una casa. Qua ci sono un po' di scogliatolini, qua c'è la cucina. Ok. Quei scogliatolini, qua è Natale. Ma è Natale, è un po' presto. Vai, vai, c'è Natale, ok, zitto. Ma il pavimento è molto naturale. Gli scogliatoli dove vivono? Nella natura? Mi prendi in giro? No, vabbè, hai ragione. Ah, la postazione da gaming, me ne sono scordato. Qua c'è il bagno, al chiuso. È un po' aperto questo bagno, eh. No, è al chiuso. Sì, io faccio la cacca qua, scusami. E chi ti guarda? Eh no, sentono la puzza anche quelli che giocano al computer, scusami. E qua c'è un terrazzo, che guarda lì all'esterno, col diamante, perché gli scogliatoli sono ricchi. Poi sali e c'è la stanza dei giochi. Beh, non ci sono tantissimi, ma che in realtà ci sono... Vabbè, carina, ci può stare, ci può stare. È molto ordinata. Io l'ho fatta molto diversa dalla tua, quindi adesso te la faccio vedere. Però ci sta anche il tuo modo di vederla. Andiamo a vedere la mia, che è più bella di quella di logo, ma non ti trovo nessuno. Allora, benvenuto nella mia casa... Cioè, non è la mia, è la mia casetta di scogliattoli. Allora, qui abbiamo un corridoio dell'ingresso, che sono delle foto qui dove sono andati in vacanza di scogliattoli. Interessante. Qui abbiamo una cucina. Ah, no, me le hai copiati alla fine, visto? Cosa? Eh, sì, questo è che si appena... Dopo ho finito il tempo, però non dirò nessuno. C'è qualcosa, mangiato, perché sono contenti. Mentre, invece, se qualche scogliattolo sta male, qui abbiamo la zona in cui vengono curati. Perché comunque è giusto. C'è la sala d'attesa, qui aspettano di essere curati. Allora, perché ci sono quattro scogliattoli quando ci sono massimo due letti, Nico? È quello il problema. Un punto in meno. È quello il problema, è che stanno aspettando alcuni. Vieni su, guarda, facci vedere subito, perché è ancora più bello. Vieni qua, guarda, guarda, è più incredibile. Allora, qui abbiamo la zona del ricume, perché qui abbiamo due tv. Puoi vedere qua un canale, mentre qua ti metti a guardare un altro canale. C'è tipo, qua guardi Nico e poi guardi Loco. Ovviamente sarebbero tutti qua, perché, cioè, vabbè. Scusa, devo fare la pipì prima. Guarda, qui c'è una libreria. Qui c'è un bagnetto, dove ti ho detto che si fanno la pipì in quattro. Perché, metti che ha uno scogliattolo scappanzacco. Qui almeno non possono farle di più. E invece qui abbiamo... Tu più lamenti del mio bagno aperto all'aria e tu mi metti quattro cessi insieme. Allora, intanto ti calmi, ma poi... Ma perché se gli scappano molti la fanno tutti insieme? Dai, vieni qua. Guarda, invece qui c'è la stanza da letto. Qui c'è l'armadio che c'è, nel senso, tu non hai idea di quanti vestiti abbiano. Perché so, so troppo alla moda. Ecco, vedi. Qui invece hanno il lettino in cui dormo. Ovviamente soltanto due alla volta. Ma scusa, c'è un ospedale per due persone. C'è una cucina per 18 persone. Quattro divani. Perché fa molte feste. Venti armadi. E perché fa molte feste. Quattro bagni. E due letti. E un pochettino noioso, te lo dico. Comunque, queste sono le nostre case all'interno degli alberi. E fatemi sapere chi di noi due ha vinto nei commenti. Quindi, a voi la votazione. Ovviamente ho vinto, io però non ho detto nessuno. E nulla. Ti giardo, ti compri voti. Ma sbezzia. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. E fatemi sapere se anche voi siete amici di Scogliattoli. Buon Natale a tutti. Buon Natale a tutti. E felice anno nuovo.